Credo che la cosa più importante da guardare oggi sia un miglioramento, uno step che ha fatto la squadra, tanto a livello anche, secondo me, mentale. Quindi, insomma, adesso è facile, bisogna continuare così, no? Senti, l'abbiamo visto tutti, l'hai visto anche tu lo striscione della curva sud, dopo il tuo gol l'hai indicati, che cosa ha significato per te questa giornata anche? Beh, diciamo che era un po' un modo di ringraziarli, perché non era scontato e, a dire la verità, è una cosa che mi ha dato anche tanta più carica, quindi era, diciamo, per me e per loro il gollo, soprattutto. Quindi, come ho detto anche prima, lo sapevo, ma oggi ho avuto la prova che dietro di me non sono solo, anzi, a fianco a me non sono solo, e loro uguale. Quindi andiamo avanti così. E ci saranno tutti anche giovedì per una sfida altrettanto importante? Diciamo che non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che bisogna rimare tutti insieme per entrare in campo e per, come ha detto un po' di tempo fa il mister, non giocare 11 contro 11, ma 70.000 contro 11. E, insomma, spingere forte perché bisogna passare il turno. Grazie a tutti.